Posso chiamare anche il mio socio? Sì, sì. Romeo Rome e Gothic. Allora, ragazzi, siamo qua. Conte le Milano con Spichisi. Siamo con Gothic e Romeo. Ragazzi, stasera cosa facciamo? Stasera spacchiamo tutto. Sì, sì, sì. Resibiamo live. Sentiamo alcuni pezzi nuovi, altri del disco vecchio, l'altro ha fatto all'album. E faremo un mix tra nuovi progetti e progetti. Il pezzo, naturalmente, dell'album Storie con Franco, che ho già abitato qui questa sera. Ragazzi, avete un sito in internet? Un'inizio in Facebook? Sì. Allora, potete seguirci su Facebook nelle pagine Gothic e Romeo Dogro Gang, tra parentesi, cliccate mi piace. A fuori a Romeo Rom e Davide Gothic, i profili privati, naturalmente su Facebook. Naturalmente lì pubbliciamo sempre i nostri aggiornamenti e tutti quelli che li seguono i nostri progetti. Giusto? Esatto, esatto. Sentite, posso invitarvi a cenare in confessione? Molitieri, certo. Si esibiscono molti cantanti giovani, molti cantanti agli inizi, però sono contatti dove noi stiamo facendo venire che ci sono persone che hanno una bella voce, ma per motivi... Cioè, cosa si dicono? Ma che sappiamo? Faccio una premessa, per ogni contatto, contattate il mio socio, perché io sono completamente a livelli dell'età della pietra, perché questo è un problema. Però, sì, vabbè, contattate Davide e Vati. Io vi chiedo l'amicizia. Perfetto. Io devo prendere se la posso accettare. Vai, Milano Bari, sento qua. Facci storie, a me la foto con loro due pari.